Quali sono gli interventi previsti dal PNRR per il potenziamento della cyber resilienza delle pubbliche amministrazioni? Sì, come previsto dalle misure della strategia cyber nazionale e già in attuazione con l'investimento 1.5 cyber security del PNRR, l'agenzia ha messo in campo una serie di opportunità con procedure aperte per la pubblica amministrazione centrale e locale per attuare interventi di potenziamento della postura cyber delle amministrazioni. Il budget è importante perché dei 623 milioni circa dell'investimento 1.5, la metà è destinato ad altri soggetti per lavorare su diversi piani di processi, di procedure tecnologici ma anche di awareness e di formazione all'interno dell'amministrazione per intervenire nei rispettivi ambiti. Il PNRR prevede anche investimenti per il trasferimento tecnologico, altro ambito importantissimo nel settore della ricerca? Allora, più in generale con la strategia cyber nazionale stiamo attuando un programma di supporto al trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca applicata fino all'ambito industriale, quindi start-up e piccole e medie imprese. L'agenzia ha definito un programma del Cyber Innovation Network la costruzione di una rete di collaborazione con soggetti primari nazionali, quindi da un lato incubatori e acceleratori verso le start-up, dall'altro con i TTO e gli enti di ricerca verso i progetti di ricerca, proprio per sostenere una crescita guidata e anche favorire la costruzione di un ecosistema tra gli ambiti pubblici, privati e il mondo della ricerca per indirizzare l'ambito ricerca verso il mondo industriale in una prospettiva di autonomia strategica nazionale ed europea.